Questa orchestra è un mezzo per educare i ragazzi attraverso lo studio della musica di insieme, per istruirli sulle nozioni basilari della musica e, soprattutto, per dar loro uno spazio creativo attraverso cui esprimere il proprio io. Questa serata è ancora più speciale in quanto coincide volontariamente con il periodo natalizzo e, perciò, in compagnia del coro della scuola primaria di senizia, è l'occasione per augurare un sereno Natale e un felice anno nuovo, con la speranza e l'augurio che questo momento storico, difficile per tutto il mondo, possa concludersi nel migliore dei modi, attraverso le arti pacifiche del coraggio e della libertà. A buona piestra, buon ascolto! A buona piestra, buon ascolto! Grazie a tutti. hanno allietato la serata, organizzata all'interno dei locali dell'Istituto Scolastico Plesso Centrale, struttura adibita per necessità alla realizzazione di un simile evento. Grazie a tutti.